Ciao ragazzi, oggi siamo qui con un video unboxing barra prime impressioni perché qualcuno di voi ci ha chiesto provate a fare un unboxing parlato allora dato che siamo in un periodo in cui vi mettiamo solo questi video ho detto dai proviamo a cambiare un po' il genere così magari non vi annoiate partiamo con l'SP no goal guanto che chiaramente vi porteremo sul canale anche con la recensione come detto anche nel video aggiornamento che vi ringraziamo anche per aver capito un po' la situazione dato che tanti ci hanno scritto, andate tranquilli, fate gli esami e tutto grazie allora partiamo allora il dorso è un dorso molto leggero fatto in neoprene un unico pezzo di neoprene su cui è applicata della gomma abbiamo gomma abbastanza spessa ma in generale poi indossandolo il guanto è molto molto leggero ricorda un po' la gomma che c'era su l'Ace Trans Pro dell'Adidas qualche anno fa ricorda abbastanza anche come tramatura troviamo qua la scritta SP il pezzo di neoprene si estende fino al polsino infatti che lo compone interamente la parte interna abbiamo questo pezzo in materiale tessile che aiuta nel tirare giù il guanto quando lo indossiamo il cinturino è metà in lattice e metà in materiale elastico fa solo un giro sul polso ma chiude molto bene avvolge molto bene l'avambraccio insomma siamo al palmo il palmo è un giga grip proprio al tatto si sente che ha ancora tantissimi residui di lavorazione quindi vi consiglio se acquistate questo guanto di fargli un bel pre lavaggio perché si sente che c'è ancora tanto materiale sopra il taglio è completamente negativo partito riscalamento il taglio è completamente negativo con inserti in lattice tra le dita è un negativo che mi ha convinto così a prima impressione l'unica cosa che forse non capisco come scelta della casa non aver fatto girare il lattice attorno al pollice con una cucitura negativa ma anche positiva ma solamente farlo girare per aumentare un po' la superficie non so perché non l'hanno fatto secondo me poteva essere utile bene proviamo la calzata e poi possiamo concludere ah si all'interno ci sono degli inserti in gel posizionati abbastanza bene non fanno scivolare le dita all'interno del guanto questa è una taglia 9 io vesto una taglia 8 di solito mi va perfetta quindi vi consiglio mezza barra una taglia in più il guanto comunque è un vesto bello aderente le sensazioni sono buone il guanto costa solo 59 euro secondo me può candidarsi come uno dei migliori best buy del 2019 per queste prime impressioni barra unboxing è tutto noi ci vediamo in campo con una recensione poi anche col parliamone a freddo dove andiamo a parlare un po' più con calma dopo svariati utilizzi seguiteci su instagram iscrivetevi al canale ci vediamo nel prossimo video un saluto agli amici da Sherlock Globes iscriviti al canale iscriviti al canale